Verrà utilizzata come centro estivo per ragazzi la villa sequestrata a Bordighera al clan mafioso dei Pellegrino. L'immobile verrà gestito da una rete di associazioni di volontariato. E ce ne parla Laura Pescio. Il primo passo, quattro mesi fa, nel giorno della memoria, quando prefetto, sindaco, associazioni locali entrarono per la prima volta nella villa Bordighera della famiglia Pellegrino, un bene appena confiscato e consegnato allo Stato dopo la sentenza di condanna per associazione mafiosa degli esponenti del clan della città delle Palme. Quello stesso giorno, l'amara sorpresa, ci si trovò davanti a spazi vandalizzati, muri imbrattati, mobili danneggiati, vetri distrutti. Uno scempio che però non ha certo fermato il progetto sociale di ridestinazione e recupero dell'immobile in nome della legalità. Ad agosto, la villa ospiterà con un'assegnazione temporanea un centro estivo per ragazzi, attività organizzate da Libera e Speshauser 20 Miglia. Sicuramente faremo delle attività pratiche perché c'è comunque anche una vasta area di terreni agricoli da rimettere a posto e anche da sistemare parzialmente quello che è l'interno delle proprietà, ma poi lavoreremo anche sulla parte educativa, quindi con interventi, testimonianze di docenti, di testimoni diretti della lotta alle mafie che porteranno il loro contributo ai giovani e quindi a radicare questa cultura che vogliamo sia forte in provincia di Imperio. 20 giovani volontari domenica 27 agosto con il progetto Ben in Rete, sostenuto da Fondazione San Paolo, allestiranno una mostra e un evento pubblico. Il percorso virtuoso pare ormai avviato. L'ex villa del clan sarà sempre più vocata alle attività educative destinate soprattutto alle fasce più deboli del territorio.